Buon pomeriggio a tutti, abbiamo fatto una lunga e proficua riunione con il centrodestra compatto e il nostro tratto distintivo è di muoverci all'unisono dall'inizio alla fine di questo percorso e quindi con Luigi Brugnaro, con Maurizio Lupi, con Giovanni Totti, con Lorenzo Cesa, c'è e ci sarà accordo dall'inizio alla fine del percorso, io sono soddisfatto del clima, delle interlocuzioni avute fino ad oggi, siamo qua a presentare tre nomi ufficiali del centrodestra, visto che sui giornali abbiamo letto candidature di ogni genere, partendo da un presupposto, non siamo qui a imporre niente a nessuno, la storia degli ultimi trent'anni delle elezioni del Presidente della Repubblica è lì da vedere dal 92 ad oggi, è una storia che ha sempre visto il centro-sinistra o la sinistra protagonisti nella proposta e nella scelta di Presidenti della Repubblica che poi si sono rivelati assolutamente all'altezza ma che avevano una chiara connotazione politica, in alcuni casi con chiari ruoli di dirigenza organica di un partito e quindi come in questi trent'anni la sinistra ha ritenuto, avendo nei numeri giustamente, di proporre poi di fare eleggere dei candidati di un'area culturale ben precisa, dopo trent'anni penso che sia diritto dell'area liberale, conservatrice, moderata, identitaria, che è maggioranza nel Paese, maggioranza seppur relativa in Parlamento, di avvenzare delle proposte. Poi saremo rapidi perché ci sono le votazioni in corso e quindi c'è qualcuno che poi deve scappare a votare, abbiamo altre riunioni in corso, però a noi il centrodestra parla il centrodestra, non parlano analisti politici o pseudotali e quindi riteniamo che non ci sia una parte d'Italia che abbia meno dignità e meno liceità di avanzare proposte di altissimo profilo. Tutto ciò è possibile grazie al fatto che il Presidente Berlusconi con uno straordinario atto di generosità, di lealtà e di responsabilità ha preferito, pur avendone titolo e probabilmente numeri, sgombrare il campo dalla sua candidatura per evitare di bloccare il Paese e il Parlamento sul no pregiudiziale. Adesso faremo i nomi sperando che vengano accolti con voglia di dialogo, perché io sto incontrando tutti e continuerò a incontrare tutti, però è una voglia di dialogo abbastanza bizzarra quella di qualcuno che dice sono disposto a dialogare sui miei nomi, basta che non mi portiate nomi dell'area culturale del centrodestra, è un dialogo sui generis. Io mi siedo a dialogare ascoltando tutti, creando ponti, offrendo proposte, profili di alto livello, delle tre persone di cui parliamo oggi, Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio, non penso che nessuna delle tre abbia una tessera di partito in tasca, molto banalmente, quindi non sono organici a nessun partito, ma hanno ricoperto incarichi da Marcello Pera che è stato Vice Presidente del Senato, oltre che Presidente del Senato, docente universitario, filosofo, saggista. Non penso sia da tutti scrivere libri insieme al Santo Padre, non penso che faccia più politica partitica attiva ormai da tanti anni, ma se il Senato lo scelse come seconda carica dello Stato, penso che non abbia perso i titoli, lo smalto e la voglia di essere protagonista di questa nuova stagione del Paese. Letizia Moratti è stata sindaco, è stata ministro, è stata Presidente della RAI, è stata sindaco della mia Milano, portando a Milano l'Expo, creando rapporti internazionali che a Milano e all'Italia servono e valgono ancora oggi e attualmente, senza appartenenza di partito, vice governatrice e soprattutto assessora della sanità di una regione che più di altre ha combattuto il Covid e meglio di altre ne sta uscendo. Carlo Nordio è uomo di legge, è uomo liberale, è uomo con idee chiare perché il Presidente della Repubblica, oltretutto è Presidente del CSM e avrà nell'accompagnamento di una giustizia a misura di cittadino e di imprese uno dei suoi compiti, Consulente della Commissione Parlamentare per il Terrorismo, Presidente della Commissione Ministeriale per la Riforma del Codice Penale, Procuratore aggiunto dalla Procura di Venezia, eccetera, eccetera, eccetera. Non presentiamo, e chiudo, dirigenti di partito, anche se, e lo dico io per evitare imbarazze ad altri, ovviamente c'è qualcuno ad esempio a questo tavolo che non avrebbe il titolo, avrebbe tantissimi titoli per ambire a questa carica, poi magari lo ricorda meglio di me, Giorgia, però a proposito di europeismo, atlantismo, esperienza internazionale, dimestichezza con le segheterie, le ambasciate, le diplomazie, penso che a questo tavolo ci sia qualcuno che forse in Italia non ha eguali da questo punto di vista, così come, e mi taccio, nella terna che noi offriamo alla discussione, sperando che non ci siano dei no preventivi a priori perché qualunque proposta arrivi non ha dignità di essere discussa, vorremmo entrare nel merito, perché ripeto, dal 1992 ad oggi sono diventati Presidente della Repubblica personalità che comunque una connotazione, se non partitica, politica e culturale, ce l'avevano chiaramente, non si può far finta che mezza Italia, anzi un po' più di mezza Italia, non abbia dignità di proporre, di discutere, di ragionare. In questi nomi non c'è quello della seconda carica dello Stato, Elisabetta Casellati, perché vogliamo tenere le cariche dello Stato, questo varrebbe anche per il Presidente della Camera di cui non conosco l'età, che però penso non sia ancora abbastanza in là con gli anni, però non le mettiamo sul tavolo e riteniamo, come è sempre stato in passato, che le cariche istituzionali che il Parlamento a maggioranza ha deciso che rappresentassero le due Camere debbano essere tenute fuori dalla discussione e abbiano in sé la dignità di essere una possibile scelta. Quindi noi con questo vogliamo formalizzare un percorso che ha nel dialogo e nella voglia di dialogo e di chiudere in fretta il nostro obiettivo. Non abbiamo l'arroganza di dire di no pregiudizialmente a nessuno e speriamo che gli altri abbiano la voglia di confrontarsi nel merito sui nomi. Io penso che il centrodestra stia dando dimostrazione non solo di compattezza, ma di lealtà, di concretezza, di voglia di dialogare, anche perché in questo momento fra venti di guerra che spero vengano scongiurati ai confini dell'Europa perché la crisi energetica di tutto ha bisogno fuorché di essere inasprita e la crisi geopolitica anche. Il ruolo del Presidente della Repubblica sarà rilevante anche da questo punto di vista. Fra il costo delle materie prime e fra l'inflazione galoppante non possiamo perdere e far perdere tempo. Questi non sono candidati di bandiera, non abbiamo tempo per giochini politici per mettere avanti Tizio per poi recuperare Caio. Queste sono personalità di altissimo profilo senza una tessera di partito in tasca che pensiamo potrebbero rappresentare e possano rappresentare l'intera comunità italiana al meglio già da questa settimana. Questo è il nostro obiettivo perché a differenza di altri non abbiamo correnti e correntine da accontentare. È frutto del lavoro comune di cui vado fiero e per cui ringrazio. Cedo la parola ad Antonio, di cui poi parlerà anche Giorgia, però nell'ottica proprio della nostra voglia di dialogo, di costruire ponti e non di allontanare le parti, Antonio non ha i titoli, ha oltre i titoli necessari per ambire questa carica. Da capo partito evitiamo di cominciare il giochino. Eh no, questo è troppo connotato con un partito e quindi ringraziamo a priori Antonio per la sua generosità. Bene, io voglio sottolineare l'importanza dell'unità della coalizione di centrodestra che ha indicato qualche settimana fa, ma anche nelle prime riunioni che ci sono state dove si è parlato del Quirinale, in nome di Silvio Berlusconi che ha deciso poi per senso di responsabilità per continuare ad essere uno statista qual è di fare un passo di lato. È stata la prima dimostrazione dell'unità del centrodestra e io lo voglio ringraziare, credo di poterlo fare a nome di tutta la coalizione per questa sua scelta. Il centrodestra ha a disposizione della Repubblica molte figure che non hanno la tessera ma hanno anche la tessera, figure che sono al servizio dello Stato e delle istituzioni. E credo che sia giusto rivendicare questa capacità e questa ricchezza, questa serie di risorse per l'Italia che non possono essere nascoste o cancellate. Noi vogliamo dialogare tutti quanti, l'ha detto prima Matteo Salvini, vogliamo confrontarci con tutti in un Parlamento sovrano che ha allargato in questa occasione i delegati regionali, vogliamo confrontarci, trovare la soluzione migliore. Il centrodestra mette il meglio di sé, mette tutte le risorse possibili in campo per servire la Repubblica e per servire la nostra patria. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Anche io velocemente per intanto esprimere la soddisfazione dei fratelli d'Italia per la compattezza, l'unità con la quale la coalizione di centrodestra sta affrontando questa fase delicata, questo passaggio politico molto importante. I tanti che sperano in una nostra disarticolazione stanno rimanendo spiazzati. Voglio dirvi anche, non me ne vogliate che leggo alcune ricostruzioni sulla stampa, sui nostri rapporti, che davvero non so da dove possano venire fuori, perché sono talmente prive di fondamento da far quasi sorridere. Sono invece molto contenta di come stiamo operando. Sono contenta della proposta che oggi il centrodestra fa in modo compatto per cercare di fare un passo avanti, per evitare che sull'elezione del Capo dello Stato la politica italiana dia pessima immagine di sé, continuando magari a perdere tempo per giorni. Noi crediamo che sia nostra responsabilità cercare di fare un passo avanti, crediamo che sia nostra responsabilità fare delle proposte concrete. Partendo da alcuni presupposti che dimostrano il fatto che quella che stiamo proponendo oggi non è né una rosa di candidati di bandiera né tattica, sono presupposti di numeri e di politica. Punto primo, il centrodestra non ha i numeri per eleggere da solo un Capo dello Stato, ma ha i numeri maggiori nell'attuale Parlamento. E quindi il centrodestra ha diritto a proporre una rosa, a fare delle proposte e a chiedere agli altri di esprimersi su quelle proposte, che è esattamente quello che a parti invertite gli altri farebbero con noi. Anzi, hanno provato a fare questa proposta anche non avendo i nostri stessi numeri. E quindi vuol dire che la proposta è sensata. Ma a questo io aggiungo un altro elemento, e cioè che al netto, diciamo forse di Carlo Azzeglio Ciampi, che era comunque stato ministro dei governi Prodi e D'Alema, che fu proposto dalla sinistra, ma che fu votato anche dal centrodestra, gli ultimi presidenti della Repubblica sono stati tutti provenienti dalla sinistra. In una nazione nella quale si dice e si stima che la maggioranza dei cittadini sia di centrodestra. Allora, io credo che in una normale democrazia dell'alternanza, che in una normale Repubblica nella quale non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B in ragione delle loro idee politiche, si dovrebbe valutare con rispetto la possibilità che il prossimo Presidente della Repubblica non provenga dalla stessa area politica che ha già espresso gli ultimi quattro, per non voler andare più indietro. E questa è la ragione per la quale io trovo molto irrispettoso l'atteggiamento di chi dice che qualsiasi proposta farete non verrà presa in considerazione. Perché in una democrazia normale si entra nel merito della proposta e si dice che cosa si pensa della proposta. Non si dice che chiunque rappresenti milioni, decine di milioni di italiani è inadeguato per un incarico di grande responsabilità. Perché mi dispiace, ma io non credo sia così e rivendico rispetto non solo per la nostra storia politica, la nostra area culturale, ma per le decine di milioni di cittadini che si sentono rappresentati da quell'area politica e culturale. E i tre nomi che noi facciamo oggi dimostrano che questa area politica e culturale nulla ha, diciamo, da temere in tema di autorevolezza. Perché sono tre profili di assoluto livello. Ricordava Matteo, Marcello Pera, filosofo, accademico, scrittore, presidente del Senato, è stato, seconda carica dello Stato, è stato presidente di uno dei due rami del Parlamento, esattamente come De Nicola, Gronchi, Leone, Pertini, Cossiga, Scalfaro e Napolitano. Mi pare che abbia il curriculum. Letizia Moratti, anche qui dirigente d'azienda, politico, presidente della RAI, sindaco di Milano, vicepresidente della Regione Lombardia, è stata ministro. Come? Enaudi, Segni, Sara, Gat, Cossiga, Scalfaro, Ciampi, Napolitano, segnatamente è stata ministro dell'istruzione come Sergio Mattarella. Mi pare che abbia il curriculum. È una donna in più. E anche questo sommessamente fatemelo dire. Perché poi alla fine c'è chi lavora sulla quantità della presenza femminile e c'è chi lavora sulla qualità della presenza femminile. E alla fine le donne nei ruoli apicali, guarda caso, le propone sempre il centrodestra. Carlo Nordio. Carlo Nordio è una proposta che abbiamo voluto inserire per allargare ancora di più il campo. Per avere anche una proposta che non avesse un pregresso politico, che fosse ancora più facile da avvicinare. È una persona che proviene sicuramente dalla cultura liberale, è stato grande magistrato, procuratore aggiunto di Venezia, è stato protagonista di tantissime inchieste, insomma, di estremamente note. E anche lui, insomma, giurista, oggi anche un editorialista, una persona che collabora con moltissime riviste giuridiche e non solo con moltissimi quotidiani, è stato, ricordava Matteo, presidente della commissione ministeriale per la riforma del codice penale. Ora, presidente della Repubblica è un signore che, come si sa, presiede anche il Consiglio Superiore della Magistratura. E immaginare di avere una persona che conosce bene quel mondo e che, anche rispetto ad alcuni problemi che ci sono stati nel nostro sistema giudiziario non ha avuto paura, no, con coraggio a dirlo, secondo me può essere sicuramente un elemento di forza per le riforme che in Italia bisogna fare. Vedete bene che non sono tre proposte buttate lì, tirate via. Ma come è stato ricordato, il centrodestra avrebbe anche diversi altri nomi da fare, perché esprime attualmente il presidente del Senato in carica, altra donna, sempre per non voler girare il dito nella piaga, ma si diceva Antonio Tajani che è qui seduto con noi, è un altro curriculum fantasmagorico, insomma, dieci anni vicepresidente della Commissione europea, presidente del Parlamento europeo, commissario dei trasporti, commissario dell'industria, un signore che quando è uscito dalla Commissione europea ha rinunciato alla buona uscita, magari, Antonio, questo potrebbe avvicinare qualche voto del Movimento 5 Stelle, non lo so. Ma insomma, volendo ci sono anche molte altre proposte da fare. Poi noi, nel caso di Antonio, ad esempio, abbiamo scelto di non inserirlo perché è coordinatore di un partito e quindi, diciamo, non volevamo si potesse dire che le nostre proposte non erano fatte per avvicinare. Davvero di più, signori, non possiamo fare. Di più non vogliamo fare. Quindi, quando qualcuno si esprimerà, come spero che si esprimeranno, e chiudo gli altri partiti su queste proposte, chiedo che si parli del merito. Perché queste persone non dovrebbero andare bene per ricoprire l'incarico di Presidente della Repubblica. Credo che questo nostro passo in avanti sia un gesto di assoluta responsabilità. Auspichiamo di trovare dall'altra parte uguale responsabilità perché davvero speriamo che, insomma, questo importante passaggio che richiede i suoi tempi si però consumi in un tempo ragionevole. Io che sono una presidenzialista convinta penso sempre che se il Presidente della Repubblica lo votassero i cittadini lo voterebbero in un giorno, che è un altro punto a favore del presidenzialismo. Che grande battaglia che il centrodestra conduce da anni e che rilanceremo perché davvero spero sia l'ultima volta il Presidente della Repubblica si vota così. Però anche il Parlamento credo debba fare del suo meglio per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica nel minore tempo possibile, con un accordo possibilmente ampio, senza vedi contrapposti, senza che qualcuno si consideri migliore degli altri. Questa è la nostra proposta, attendiamo le risposte degli altri partiti. Una domanda si può fare? Una domanda? Niente domande? Niente domande? Scusa, conferenza stessa.